Ah, idea! Perché non gioco a FIFA? Sto per me fico! No! Non c'è che mi sono finito i contratti! E che bello a tutti ragazzi! Qui Lucio06 e Tranky One faremo nel mio canale e registreremo il primo video di FIFA 16 Ultimate Team E' da poco tempo che Tranky ha iniziato il suo Ultimate Team cioè d'aprile Io l'ho iniziato pure d'aprile ma io sono un pro rispetto a lui quindi già si sa i fratelli maggiori sono molto più bravi a FIFA Ma non è solo il cazzo! Oggi per l'appunto sono finiti i contratti ad Amsic e il nostro obiettivo è vincere qualche partita nella stagione Seguirci un po' di soltini per rifare i contratti ad Amsic e... buona notizia! Buona visione da Tranky One Per l'autosileno 6! Bene a tutti! Ci siamo ritrovati e abbiamo provato questo drogato dell'aiuto Bastardo il diventino! Noi siamo interisti! Pazzo in deramala! Abbiamo pure la mente chiusa anche la massicazia E ragazzi, quelli che mi seguono sono i juventini Vi ricordo Lasciate su per mi piace! Perché questo qui vuole diventare juventino Ma non può cambiare squadra in 4 e 4 e 8 È vero! Scherzo! Solo perché siete juventini E mia mamma è juventina Cazzo! Qualche giorno non la farà neanche Cazzo! Cazzo Tranky! Guarda che abbiamo trovato! Oh morata! Ah sto stronzo ci fa gli insulti perché non abbiamo più a Zik Però Floreggi Eeeh l'è stato Floreggi no Mamma mia accendo l'intesa 5 stelle già mi spaventano So che perderemo Sì Ma di brutto Sera con la mia squadra vincevamo oggi e domani Lui è un ref Ciclalata perché uno scioppa uno? Eh raga La legge Ok Si gioca la partita Si gioca la partita Subito per Francesco Totti Parti un contropiede Veloce stessa No dai Una connessione verdosa sto stronzo No! No! Ok Facciamo Ok Stati 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 Mamma mia Stati Aiuto Bebe che si è mangiato Non ha nemmeno visto la palla Aiuto Aiuto Così di questo passo non vingerà E dai tutti 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 Aiuto, questo ci segna, questo ci segna, ma no! No, no, recupera, recupera, ti è brutto, Totti, ora vuole partire, aiuto, parte Totti, in contropiede, due lo marcano, tutto contrasto, non dinge Totti, vabbè, ok ragazzi, fa brutterare, siamo in buona posizione, ah, come si dice a casa nostra, a cazzo duro, senza futuro, e non arriva, oh fangulo, ah, mio fratello vi ricordo che ha testa inenne, ma nel mio Ultimate Team ogni tanto glielo dovrei far vedere, oh, guarda che sei tu, una sega questo, non scherzo, oh, tranti ogni tanto glielo dovresti far vedere nel Ultimate Team, eh, qualche giorno ci faremmo qualche cosa, ma faremmo un torneo che spacchiamo i culi, ma di quelli, se avete la serie spacchiamo i culi a più non posso, di quella serie, di quella serie, una serie insieme vorremmo rifiuta noi, una serie insieme di Ultimate Team, e di shoppata nel canale di Lucius, si, strazo, buona riposso, bagnano sto buttano, eh, idea, mamma mia, idea, è venuta a Morata che andrà a prendere il palo, di razza Morata, eh, te lo dobbiamo proprio, Pedro Palla dopo l'intervento di un difensore, oh, no, can, 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 mi, ma come, ma come si è rotto, mi ha cominciato, e si era rotto, Andrea Almeida, sempre lui, sempre lui si va a rompere, beh, da notare che è tranquilla, su cui li chiama Montepiller, eh, tipo, mi ha rilassato ilducca like, questo che mi rompe, eh, non ci credo, ma mi ha perso il tuo ruolo, ah, lei, non ci credo, io vado vedi, si bannano sempre, lo scherzo, attenzione una formica all'ell'oschermo, vuole mangiare un petro, piede, e poi lo scelgo, aiuto, 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 ma ci rifanno con la seconda è in pausa tutti i trucchi live ah no il morata live aiuto ragazzi ma il morata live che morata ci ha segnati no scusate se era in pausa vogliamo solo un like per quella intro ragazzi mi sa che perdiamo questa partita da nazione non sta rispondendo grazie noi non siamo a lei ma cosa sta fissando da secondo di cuore ragazzi vedi ho fettato ho fettato vedi ho fatti vedi ho fatti vedi ho fatti eh ci darò pure dei bambini spero ah mi vedo che noi abbiamo fettato ma no ma perciò bene connessione mi fa il bambino il bambino il bambino sono promosso perchè perchè il bambino lo stesso non i giocanieri non il bambino nei censi c'è il bambino allora ragazzi abbiamo fatto la partita questo è andato avanti perchè ha fettato e ora Certo, è il momento di vedere se terminate i soldi, è forte il tempo, la sua lancetta, oppure ce lo perdiamo, è un prezzo bellissimo. No, mai, poi mai, è un po' che non lo perdono. Beh, ora mi hai deciso di stascare questa canzone. Vabbè. Ah, idea, abbiamo 1.6 crediti, non ce l'abbiamo fatto. Ho zecco, ho zecco. Ma che cazzo ci... Sarebbe sprenda. Are the champions. Ragazzi, sì, cazzo, ci vuole riuscire a comprarci un bel contratto e abbiamo rinnovato un fico. Beh, e ora lo mettiamo subito al posto di questo pippone. E adesso, direi che... No, no, ancora l'ultima cosa, ragazzi. Vi farò vedere il mio internet team. Ci cazzo, adeo, ragazzi. No, 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 no.